Mister Viglione del Baranello, un Baranello che non concede alcun tipo di sconto in questo doppio impegno interno, prima con il Torre Maggiore, adesso questa vittoria larga con il Roccaravindola. Sì, un po' di sconti li abbiamo fatti, diciamo che comunque il gol l'abbiamo subito, è l'unica pecca di questa prestazione per me sicuramente importante, maiuscola fatta con la giusta intensità dal primo minuto, quindi sono veramente contento della partita, con queste due partite di fila in casa, abbiamo raccolto sei punti. Per noi fondamentali, siamo arrivati quasi a fine gennaio, abbiamo raggiunto gli stessi punti dell'anno scorso, che salvo imprevisti ci concedono comunque di festeggiare il nostro primo obiettivo stagionale, quello della salvezza e non è sicuramente una cosa scontata, considerando il mio recente passato e quello di questa società, di questa squadra qua, quindi siamo contenti e andiamo avanti. Sì, un giornale di ritorno che si è aperto con due scontri diretti, quello in casa del Riccia dove avete perso di misura, poi quello con il torne maggiore, due partite come abbiamo visto abbastanza combattute. Sì, due partite molto combattute come sono tutte di questo campionato, con Riccia pure facciamo una buona prestazione purtroppo raccogliendo zero punti e adesso abbiamo fatto queste due vittorie di fila, però sicuramente non ci possiamo fermare perché se vogliamo confrontarci con il nostro girone d'andata, all'andata col Morcone abbiamo raccolto i tre punti e adesso siamo, tra virgolette, condannati, costretti a ripeterci e a fare una grossa prestazione su un campo sicuramente difficile. Orfani di Venditti che ha subito un infortunio nel corso della festa, lo state recuperando? Sì, noi purtroppo abbiamo tre infortuni, Venditti è un infortunio muscolare, abbiamo recuperato Polletta però è stato in panchina perché pure aveva un infortunio muscolare e poi abbiamo tre infortuni di caviglie gonfie come quella di Russo, di Muttillo e di Iannetta, quindi avevamo diverse indisponibilità, cioè nonostante comunque la squadra ha approcciato nel modo giusto sia gli undici che sono partiti dal primo minuto che le cinque sostituzioni effettuate.